buongiorno a tutti sono paccalini angelo titolare della paccaline srl azienda fondata nel 1961 da mio padre e mia madre siamo passati dal mondo della pelletteria con accessori per borse quindi tornitura con macchina camme alla lavorazione sui centri di lavoro per quanto riguarda particolari per automotive finalmente siamo passati che il settore attuale sulla lavorazione del legno del plexiglass per quanto riguarda il taglio la piega la stampa e tutto quello che l'assemblaggio con colle di varie tipologie abbiamo oggi due macchine laser di marcatura che seguono al 99 per cento il mondo medicale abbiamo un nuovo arrivato dietro di me che la truma station 7000 una macchina eccezionale monta un laser della serie true micro prestazioni spaziali eccezionali tutto quello che prima non potevamo fare è diventato realtà i rangi materiali che possiamo lavorare passano dal titanio allo stato grezzo appena lavorato al titanio ossidato con particolari trattamenti che favoriscono il fatto che la vite rimanga più agglomerata nel corpo umano quindi venga assorbita senza particolare difficoltà per il medicale passiamo dalle staffe in acciaio inossidabile uso veterinario alle stesse tipologie di staffe uso umano per riparazione di fratture alle articolazioni da lì oltre all'acciaio inossidabile 316 l passiamo a 430 che è un'altra tipologia di acciaio per le punte oppure titanio nelle varie tipologie per l'implantologia dentale e nel corpo la caratteristica più importante per l'acquisto di questa macchina chiaramente è la qualità del fascio laser la capacità di poter gestire moltissimi parametri di marcatura nello stesso file con diverse frequenze in funzione della posizione della vite o dell'utensile o della punta che andiamo a marcare la facilità d'utilizzo è data dal software che è molto intuitivo la telecamera ti aiuta tantissimo per quanto riguarda l'occhio umano che non vede sei in alta risoluzione il centraggio secondo me facilita moltissimo le lavorazioni il fatto che la telecamera riconosca i pezzi che tu vuoi andare a scrivere dove li vuoi scrivere è sicuramente un plus non indifferente che facilita la lavorazione abbiamo puntato su trunf in quanto è l'azienda che già conosciamo da anni ma ci ha offerto servizio qualità e assistenza sempre ai massimi livelli il nostro cliente paccalini ha acquistato una macchina molto completa tecnologicamente avanzata la gamma attuale di marcatori che trun presenta è molto ampia innanzitutto possiamo dire che abbiamo tre fondamentali tipologie di marcatori quindi abbiamo i marcatori in infrarosso nel visibile e anche nell'ultravioletto all'interno di queste gamme abbiamo le serie di marcatori partiamo subito ad esempio dalla serie 1000 che è quella più piccola la entry lever per noi sono macchine che vanno molto bene per le linee di produzione soprattutto quando abbiamo degli spazi ristretti arriviamo poi alla serie 3000 hanno un rapporto qualità prezzo molto conveniente molto elevato passiamo a una serie un po superiore la 5000 sono dei laser in fibra che grazie a un elevato repetition rate cioè una elevata frequenza possono arrivare fino a un megahertz riescono a marcare a elevate velocità ricordo la serie 6000 di nuova generazione g2 e a seguire come ultima chicca ultimo gioiello delle serie trunf abbiamo il true micromark 2000 grazie al quale si riescono a affrontare lavori che prima non erano affrontabili quindi marcare materiali ad elevata riflessione quali ad esempio ottone rame anche oro argento acciaio inox a specchio ottenere dei livelli di nero che non si riuscivano a ottenere precedentemente e in più ad effettuare delle marcature molto piccole quindi nel campo della micromeccanica nella scelta delle tecnologie di marcatura indubbiamente il primo fattore da considerare è la tipologia di materiale che andiamo a marcare come detto precedentemente in genere coloro che marcano marcano materiali molto diversi tra di loro possiamo andare dal cuoio legno plastica materiali metallici quindi la prima cosa da considerare cosa voglio marcare e in base a questo trunf offrendo una paletta di prodotti così elevata può scegliere il giusto marcatore la giusta potenza che fa per quel lavoro che fa per quel cliente grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti